scientifica il podcast più ascoltato da chi mangia l'ego episodio 332 ciao a tutti benvenuti all'episodio 332 di scientificas io sono anna e sono qui con giuliano ciao a tutti ciao ciao anna sono molto contento di registrare insieme a te anch'io la prima volta prima volta della seconda che tu registri in assoluto confermo è la prima volta che lancio la puntata esatto un sacco di prime volte oggi molto bene tra l'altro molta emozione giustamente va benissimo molta emozione ma ci piace così e tra l'altro si è stata anche richiesta nel dal pubblico dai nostri ascoltatori seguaci durante la notte dei ricercatori vero ve lo ricordo hanno complimentato la voce anche se ringrazio molto ma devo dire che penso sia grazie al microfono microfono nuovo bella voce devo dire che il microfono ovviamente fa però se non hai la voce la voce comunque devo dire che è una voce piuttosto radiofonica quindi anzi podcast fonica quindi siamo siamo felici che tu abbia incominciato a registrare anche perché abbiamo bisogno come sai di gente perché c'è sempre è sempre difficile organizzarsi Giorgio impazzisce nell'organizzazione e Giorgio è impazzito anche nell'organizzare la notte dei ricercatori che non so se avete seguito ma in cui si è fatto un quiz scientifico in cui noi abbiamo posto delle domande al pubblico e il pubblico ha giocato facendo questo quiz con noi e poi noi insomma saltivamo fuori e dicevamo un po due due così due spiegazioni davamo due spiegazioni delle nostre domande molto molto informalmente insomma ci siamo fatti quattro risate direi anche sì molto è stato anche molto interessante sinceramente perché certo io conoscevo la mia domanda perché l'avevo posta io e quindi poi ho potuto spiegarla ma delle vostre ragazzi non sapevo quasi niente e anzi quando poi abbiamo fatto le prove nei giorni precedenti al quiz ne ho sbagliate parecchie non vi dico quante perché mi vergogno no io invece ve lo dico lo sbagliate praticamente tutte ne avevo azzeccata una quella di biologia poi beh la tua la tua sì no la mia la mia sì ovviamente e quella di biologia che era posta da Valeria poi per il resto l'avevo canate tutte quindi è sicuramente stato utile anche per me anzi vi invito voi ascoltatori ad andare a sentirvi anzi a vedervi perché l'abbiamo fatto in video l'episodio l'episodio diciamo lo speciale notti di ricercatori sul nostro canale youtube che dovrebbe essere disponibile quanto io ne so quindi potete guardarlo mi sembra sì e anche su facebook probabilmente è rimasta era stato mandato in diretta anche su facebook giusto credo di sì credo di sì che sia anche su facebook quindi sì potete andarvi a cercare il nostro magari lo linkiamo nelle note dell'episodio linkiamo anche il video per chi rivolesse vedersi ovviamente non potrà giocare di nuovo in diretta però ci saranno altre occasioni per giocare ancora in diretta anzi avevamo pensato di fare una roba diversa no con Giuliana si era detto di fare che invece noi rispondiamo alle domande che ci si potrebbe anche fare la cosa inversa quindi noi che rispondiamo alle domande del pubblico su però topic che non sono i nostri tipo non so ad anna chiediamo solo di biologia molecolare e a me chiedete di fisica cioè quelle cose sarà una serata interessante molto interessante va bene dai anna iniziamo l'episodio cosa abbiamo in programma oggi allora oggi in programma abbiamo un tuo intervento in cui ci parli di cosa sta succedendo ai taquini di darwin e dopodiché abbiamo un servizio esterno di Giuliana che ci parla dei nuovi risultati di un esperimento porexino poi un servizio mio in cui vi parlerò dell'illusione della mano finta e poi ci salutiamo esatto quindi direi che poi a quel punto ne avrete abbastanza di noi e deciderete di cambiare il vostro ascolto bene direi che possiamo iniziare ok allora Giuliano a te la parola cosa ci racconti i taquini di darwin allora i taquini di darwin è una storia che ho letto su un quotidiano quindi sul corriere della sera qualche giorno fa ricordiamo che oggi è il 29 novembre stiamo registrando quindi voi ascolterete presumibilmente domani comunque nei prossimi giorni quindi è una cosa abbastanza recente anche per voi che ascoltate qualche giorno fa sul corriere è comparso questo articolo su i taquini di darwin smarriti è una cosa che mi ha incuriosito l'ora sono andato un pochino a spulciare in effetti è successa una cosa molto strana tanto partiamo dal presupposto che darwin durante la sua vita da scienziato aveva come molti a quel tempo aveva diciamo l'abitudine di segnare le sue osservazioni sui taquini che secondo me è una cosa fighissima cioè io proprio ho pensato quando ho intrapreso la carriera poi di ricerca per me era quello fare ricerca osservare e poi con il mio quadernino segnarmi quello che vedevo fare degli schizzi perché erano tutte cose abbastanza incomprensibili e darwin faceva come molti fanno aveva questa abitudine di segnarsi tutto sui taquini questi taquini erano conservati al museo di cambridge scusate alla biblioteca di cambridge ed erano lì come ovviamente un reperto storico risalgono comunque al 1837 subito dopo all'espedizione che darwin fece con la beagle in cui esplorò comunque tutti i mari quasi del mondo e comunque dalla quale poi nacquero le osservazioni che portarono poi al libro sulle origini delle specie quindi le sue teorie e quello che conosciamo tutti noi come alla base della teoria dell'evoluzione eccetera eccetera quindi è stato sicuramente sono stati i primi appunti storici un valore storico e di significato inestimabile cosa è successo? che è comparso c'è anche su youtube e ve lo rincheremo nel noto dell'episodio un appello della bibliotecaria Jessica Garner che è una roba strana se pensi a una cosa del genere fatta in Italia suonerebbe strano la bibliotecaria di cambridge che mette un messaggio su youtube e poi lo manda a tutte le televisioni del mondo in cui dice ci dispiace comunicare che non abbiamo più non troviamo più i taccuini di Darwin e supponiamo che siano stati rubati è una roba veramente assurda per me quindi loro fanno un appello in cui incoraggiano descrivono come sono fatti questi taccuini fanno vedere anche delle immagini dei taccuini la scatola che li conteneva in modo che chiunque li vedesse può aiutare a ritrovarli e accettano segnalazioni anche anonime a un'email dedicata in cui appunto alla quale incoraggiano di scrivere nel caso qualcuno abbia delle informazioni che possono trovare a possono portare al ritrovamento di questi taccuini peraltro sono taccuini che non è che uno li vende al mercato nero cioè non so non mi immagino quello no che ti attira nel vicolo e ti vende il taccuino di Darwin credo che siano traffici di arte e di reperti storici internazionali quindi non so quanto le persone possano in qualche modo aiutare a ritrovare questi taccuini però è stata un'occasione per vedere anche come come è organizzata una biblioteca come quella di Cambridge ed è assurdo perché in pratica la storia è che loro non è che sanno con certezza che li hanno rubati in realtà loro li hanno persi e nel 2000 li hanno tirati fuori dal posto dove erano catalogati per fare delle foto e hanno fatto delle foto a questi taccuini la teoria è che in realtà l'abbiano messi fuori posto cioè la teoria iniziale era questa no cioè l'abbiamo tirato fuori abbiamo fatto le foto e poi qualcuno non l'ha rimessa a posto nel posto giusto come faccio io con le chiavi brava esatto fondamentalmente esatto la biblioteca di Cambridge è organizzata come la mia testa quando deve mettere le chiavi e le mettere in posto sbagliato esatto cioè la biblioteca di Cambridge che ha questa roba qua e diciamo che però prima di denunciare il furto hanno appunto pensato siccome avevano sapevano che l'organizzazione non era proprio senza senza intoppi hanno prima cercato di verificare internamente se li trovavano e ci hanno messo vent'anni quindi nel 2000 hanno fatto le foto poi l'hanno teoricamente rimessi a posto poi li hanno ricercati per anni e non l'hanno trovati adesso io mi sono anche chiesto ma perché cercare per anni cioè per quanti anni ci vogliono per trovare qualcosa in una biblioteca però quanti libri hanno in quella biblioteca brava questa è la domanda che mi sono fatto e c'è un articolo che risponde a questa domanda allora la biblioteca di Cambridge ha 200 chilometri di scaffali 200 chilometri di scaffali sono diviso in ovviamente diversi edifici e ha anche dei tunnel che passano sotto la cittadina di Cambridge che contengono altri reperti cioè hanno questa cosa è fighissima 10 milioni di manoscritti cartine e altri oggetti 10 milioni cioè è praticamente come se noi effettivamente con le chiavi riponessimo le chiavi in un cassettone con altre 10 milioni di chiavi è ovvio che poi ci metti una vita a cercarli e a capire se effettivamente te l'hanno rubate o meno se contando che io ci metto l'intera giornata a trovare le chiavi e quella copia soltanto effettivamente si diventa mamma mia praticamente l'intera città è una biblioteca praticamente si la roba che mi ha davvero stupito che tu cerchi per anni una roba un tacquino che è di 10 per neanche 10 centimetri per 5 centimetri in mezzo a un mare di altre cose e poi arrivi a un punto in cui dici no ragazzi secondo me ce l'hanno rubati cioè capito è andata però non ne hanno ancora la certezza quindi in realtà stanno continuando a cercarli e stimano altri 5 anni per per finire la ricerca che stanno facendo però insomma come con le chiavi sarà nell'ultimo posto in cui guarderanno poi magari la sai quelle cose che poi ti succedono a te nella vita normale no la 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 direttrice lì della della biblioteca di Cambridge apre il cassetto della sua scrivania ah eccoli eccolo sì sì nell'ultimo posto c'era mi ricordo la storia di un sempre parlando di chiavi ma è stranamente utile come esempio il papà di una mia amica una volta era rientrato per pranzo così niente torno al lavoro non trovo più le chiavi di casa non trovo più le chiavi di casa o le cercano per due giorni cambiano la serratura perché cosa devi fare e niente si mettono a far da mangiare due giorni dopo spostano una bottiglia di qualcosa un piatto di qualcosa le chiavi erano lì dietro in frigorifero perché lui era tornato per pranzo aveva le chiavi in mano doveva prendere la roba del frigorifero e le appoggiate lì fortunatamente non aveva fatto un annuncio a Urbi e Torbi e su YouTube sulle sue chiavi perché ovviamente poi avrebbe fatto una figura abbastanza barbina speriamo che la nostra Jessica Garner non la faccia la figura barbina anche perché lei ha preso la direzione della biblioteca pochi anni fa dal 2017 e secondo me in questa sua ottica di rimettere a posto le cose ha detto ma scusate ma è da qui di Darwin l'avete poi trovati e quindi ha cercato di attivare tutto il meccanismo tra l'altro la Garner racconta che adesso sarebbe impossibile per loro perderlo perdere qualsiasi cosa perché in realtà a partire dal 2000 hanno istituito un sistema di marcatura diciamo elettronica di tutti gli item che venivano poi che vengono poi catalogati all'interno con la location il posto e ogni volta che vengono presi o riposti c'è un sistema che identifica esattamente dove sono ubicati e in più hanno un sistema di sorveglianza molto complesso che prima non avevano quindi hanno appunto delle videocamere per tutto l'archivio cioè io mi immagino praticamente loro devono monitorare una città perché 200 km di scappati sono di più di una città speriamo che li ritrovino e perché è molto importante per loro ritrovarli perché proprio in uno di quei tacquini c'è il primo schizzo dell'albero famoso diciamo albero della vita diciamo che poi è stato alla base della teoria dell'evoluzione quindi è un tassello fondamentale per scienziati e filosofi anche insomma per tutti un patrimonio importante da recuperare quindi amici di scientifica se per caso vedeste un tacquino nel video vedete le foto sono in degli scatoline blu adesso fate la caccia alle scatoline blu tra l'altro ecco Anna tu sei in Irlanda non c'è stato eco di questa notizia qua in Irlanda perché ci tengono abbastanza a Darwin guarda non che io non l'ho sentito però boh magari semplicemente non me ne sono accorta anche perché io qua non ho la tv quindi non vedo notizie o cose magari che girano ma non se ne è discusso da voi tra i colleghi noi siamo in quarantena ah ok per cui no non siamo in ufficio ognuno per sé per cui è anche più difficile confrontarsi sì vabbè speriamo che molti abbiano visto il messaggio che tra l'altro veramente è una roba curiosa ti immagini non so una bibliotecaria della biblioteca che non so di Milano che manda un messaggio e dice ragazzi abbiamo perso un libro dovete aiutarci a trovarlo no anche perché probabilmente e comunque ci vuole cioè è anche un po' imbarazzante nel senso perché devi ammettere che hai perso un libro di questa portata e che in realtà pensi che ti sia stato rubato ma in realtà nemmeno lo sai perché il tuo sistema non funzionava cioè richiede anche una certa quantità di coraggio fare un messaggio del genere anche perché come hai detto tu magari in realtà tra tre giorni lo trovano nel cassetto quindi insomma metti in moto tutta una serie di insomma è ammirabile lo apprezzo sono abbastanza sì sono abbastanza d'accordo in effetti apprezzo molto il fatto che loro abbiano fatto un si siano esposti al mondo facendo anche un mea culpa notevole sulla questione è un secondo me è un sintomo di grande maturità anche dal punto di vista proprio di di struttura ed è una cosa che difficilmente altri farebbero nel senso che nella cultura io devo dire che forse forse questa adesso non so se tu la pensi come me però questa forse è una cosa più anglosassone di prendersi certi tipi di responsabilità rispetto al sud Europa dove non so in Italia viene fatto meno a livello di ricerca ad esempio io ho sentito molti più anglosassoni parlare di uno studio fatto e di errori fatti all'interno dello studio piuttosto che italiani magari che invece riescono a coprire l'errore oppure lo in qualche modo lo omettono nelle presentazioni scientifiche questo ai congressi e questa è la mia esperienza sono molto d'accordo e anche nella pratica in realtà di tutti i giorni mi capita molto più spesso qui anche il mio capo stesso che davanti al gruppo dice ah ragazzi io questa cosa l'ho sbagliata scusate eh sì una cosa abbastanza rara in Italia gli dispiace però vabbè cioè succede nel senso non è che cosa devo fare ho sbagliato va bene così e però devo dire che in realtà apprezzo anche quello perché mette molto più cioè rilassa anche me ho cominciato anch'io a fare molto più tranquillamente un mea culpa su cose pubblicamente di fronte agli altri perché cioè non lo so c'è è come se ci fosse meno giudizio non so come dire però ok c'è questo errore ho fatto ma anche cose piccole non devono essere errori stratosferici c'è più tranquillità più non lo so la libertà di sbagliare che secondo me è veramente fondamentale se non si e questa adesso traslando completamente poi la chiudiamo perché sennò andiamo avanti due ore ma traslando completamente campo è la stessa lo stesso atteggiamento che da noi c'è poco e invece negli Stati Uniti ad esempio è molto radicato del fallire l'impresa le iniziative di impresa quando uno fa un'azienda e fallisce da noi è un disgraziato che non gli daresti più due soldi invece negli Stati Uniti l'avere fallito un'impresa è comunque un plus sul curriculum di una persona comunque vuol dire che ci hai provato esatto vuol dire che ci hai provato e che sai cosa vuol dire fallire poi certo qua e con gli errori e immagino anche là con il fallimento dipende cioè sono importanti le circostanze nel senso che se tu dimostri che ci hai provato in tutti i modi e poi però hai perso quella parentesi o quella virgola in quello script di mille righe ci hai provato ok hai fatto un errore non avresti dovuto per carità però hai veramente fatto del tuo meglio mostri che hai fatto tutti i tuoi controlli tutte le cose e quello ti è sfuggito ok va bene cioè nel senso succede a tutti succede a me come succede a voi se invece ovviamente si vede che non ci stai attento non lavori hai lavorato male allora no allora lì si fa una distinzione tra questi due tipi di errori ovviamente non è completamente oggettiva per carità questo è un può essere potenzialmente un problema però si cerca di fare questa distinzione e sì come dici tu immagino sia più o meno la stessa cosa in America noi diamo fiducia alla biblioteca di Cambridge perché pensiamo che abbiano fatto veramente tutto il possibile e che dopo tanti anni di ricerche siano stati veramente portati a fare questa cosa per il bene del del recupero di un oggetto comunque importante un po' per tutti ma forse anche è stata anche forse una mossa di rilancio di marketing chi può dirlo potrebbe essere anche può essere una mossa intelligente comunque bene passiamo passiamo oltre e se vedete una scatola blu anonima completamente anonima controllatela controllatela bene ok allora dunque adesso allora lasciamo la parola a Giuliana che intervista Davide D'Angelo un fisico dell'Università di Milano che ci racconta gli ultimi importantissimi e soprattutto inaspettati risultati ottenuti dall'esperimento Borexino cari amici ascoltatori sono qui per modo di dire con Davide D'Angelo un mio collega fisico ciao Davide ciao Giuliana ciao a tutti tra l'altro Davide è già stato nostro ospite nella puntata 214 ormai lontanissima intervistato da Silvia Cuna che aveva fatto un tour nei meandri del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso e oggi parliamo di qualcosa che sempre si trova lì cioè l'esperimento Borexino in cui tu lavori perché diciamo è uscito addirittura la copertina di Nature dedicata a questo esperimento ai nuovissimi risultati cosa avete scoperto? ma Borexino si occupa di studiare i neutrini prodotti dal sole nelle reazioni termonucleari che alimentano il sole e questa cosa la fa ormai dal 2007 l'anno in cui è entrato in funzione e la maggior parte di questo periodo ha indagato le emissioni di neutrini predominanti quelli della cosiddetta catena protone-protone la maggior parte dell'energia del sole è prodotta appunto da reazioni che si inquadrano in questa catena protone-protone circa il 99% tuttavia il modello solare prevede anche una frazione dell'ordine del percento dell'energia che viene prodotta attraverso la stessa reazione ma catalizzata da un nucleo di carbonio e coinvolge tre specie di neutrini dove per specie si intende la reazione con cui vengono emessi cosiddetti i neutrini del ciclo cno perché stanno per carbonio azoto e ossigeno tre alimenti coinvolti in queste reazioni ecco questa l'esistenza di neutrini appartenenti al ciclo cno è stata postulata tempo fa dai modelli solari che si vengono rassinati dai fisici fenomenologi teorici nel corso degli anni ma non era mai stata verificata sperimentalmente ed era una misura che va ben al di là di quello che c'eravamo prefissi con Borexino Borexino è stato disegnato per studiare la catena principale quella protone e protone e questa misura è particolarmente difficile perché sono molto pochi questi neutrini e quindi la lotta contro i segnali di fondo è particolarmente difficile e quindi si pensava che non ce l'avremmo mai fatta né noi né altri esperimenti invece grazie a una serie di accorgimenti di analisi particolari di cui se volete poi posso dire qualcosa si è arrivato alla scoperta cosiddetta 5 sigma quindi fuori di possibile dubbio di fluttuazione statistica dell'esistenza nel sole di neutrini appartenenti a questo ciclo CMO quindi sostanzialmente noi pensavamo forse cioè noi profani diciamo così pensavamo di conoscere tutto del sole e invece c'era una piccola frazione che era ancora solo teorica non era mai stata effettivamente provata beh sì tutti i modelli hanno sono veri finché i dati sperimentali non non permettono di correggerli di ampliarli di modificarli o di confermarli quindi finché non c'è una misura rimane tutto un po' per quanto questo fosse un modello fatto molto bene che era in grado di spiegare tutti i dati presi fino a questo momento ma finché non venivano osservati questi neutrini del CNO era difficile affermarlo con certezza questo ci dà un'idea di quali sono gli elementi più pesanti dell'elio in astrofisica tutti gli elementi più pesanti dell'elio vengono definiti elementi pesanti anche se in realtà sono leggeri all'interno del sole e facendo i dovuti rapporti di proporzione anche in stelle più pesanti del sole dove invece diventano ben di più e dove questo ciclo può avere un ruolo anche dominante il sole è subdominante implicazioni per l'astrofisica per la fisica stellare e quindi come avete fatto a scoprire questi neutrini proprio di questo ciclo CNO e a distinguirli da tutti gli altri ecco questo è particolarmente complesso perché in Borexino le misure di flusso di neutrini non solo di questi ma anche quelle fatte in precedenza si ottengono facendo un'analisi spettrale che cosa vuol dire che facciamo vedere qual è la distribuzione dell'energia degli eventi raccolti dal rivelatore e poi quelli che provengono da una particolare reazione di produzione all'interno del sole hanno una certa forma le componenti di fondo dovute ai decadimenti radioattivi residui nello scintillatore quindi nel materiale bersaglio di Borexino nei materiali costruttivi o nell'ambiente esterno o nella radiazione cosmica che sopravvive al filtro della montagna insomma tutte le varie componenti di fondo hanno anche loro delle caratteristiche spettrali cioè delle forme particolari quindi poi si fa un fit con degli strumenti software che abbiamo sviluppato in cui si assegna un peso alle diverse emissioni e alle diverse componenti di fondo in base a come si adattano ai dati effettivamente raccolti questa cosa nel caso del CNO è particolarmente difficile innanzitutto perché si parla dal 3 ai 5 eventi al giorno su un rivelatore sappiamo Amast non so se gli ascoltatori se lo ricordano da precedenti interviste probabilmente no ma la massa dell'ordine è 100 tonnellate come versaglio quindi è un segnale molto molto debile mentre il fondo nella stessa regione energetica è 10 volte più grande e poi perché non hanno una forma spettrale che è molto simile ad una particolare emissione di fondo che è il decadimento del bivoto 210 quindi in linea di principio questa misura partiva malissimo sono state fatte due cose che hanno permesso questa misura uno è la rimozione del fondo cosmogenico da carbonio 11 questo vuol dire che ci sono degli isotopi il carbonio 11 quindi un isotopo del carbonio che compone lo scintillatore che da 12 diventa 11 per effetto del passaggio di un muone cosmico e questo ha un decadimento proprio nella regione energetica dei nutrii del CNO quindi è 10 volte più pesante 10 volte più frequente quindi cosa devo fare devo tracciare il muone cosmico quindi queste particelle che penetrano la montagna e arrivano fino a un laboratorio sotterraneo e che generano questo tipo di fondo utilizzando i dati interpolando i segnali di arrivo della luce i tempi di arrivo della luce su diversi fotomultiplicatori che compongono del rivellatore per costruire la traccia del muone e quindi andare a sottrarre quelle regioni di spazio interessate da questo fondo e questa è un'analisi un po' complessa in cui ho dato un contributo personale che mi fa particolarmente piacere parlarne perché mi sono divertito ecco perché ci sei divertito questa è la bellezza dei fisici ho fatto questa grande scoperta ho partecipato a questo lavoro in mano è complicatissimo e sono molto fiero perché mi sono divertito sì assolutamente è un'analisi divertentissima questa e poi più di recente l'altro problema cioè quello del bismuto 210 è stato affrontato in questo modo il bismuto 210 è un figlio del radon quindi quando c'è un'esposizione da questo gas che c'è anche nelle nostre cantine che viene emanato da tutti i materiali ci sono questi tre componenti piombo, polonio e bismuto piombo, bismuto e polonio nell'ordine 210 che possono costituire del fondo negli esperimenti di bassa radioattività come il borexino però fintanto che c'è un equilibrio in questa parte della catena non è un problema perché io ho il polonio lo posso vedere perché è un decadimento alfa quindi è una segnatura diversa e quindi potrei sottrarre il contributo del bismuto perché sono in equilibrio quindi tanti beta del bismuto 210 tanti alfa del polonio misuro gli alfa sottrago i beta questa cosa purtroppo non è un'equazione matematica alfa meno beta non si capisce più se stiamo facendo greco oppure algebra o fisica sì mi riferisco ovviamente alla radioattività naturale che questo penso che sia noto è composto di decadimenti alfa beta o gamma in questo caso c'è questo fondo che è fuori dall'equilibrio secolare con i nuclei parenti e figli e quindi devo andare a ricercare una regione di scintillatore particolarmente pulita facendo tutta un'analisi nello spazio e ponendo dei limiti sulla sulla componente di questo fondo che è stata un'analisi molto complessa che ha richiesto la stabilizzazione termica del regolatore per evitare che ci fosse del fondo che viene dall'esterno e un'analisi appunto sofisticata perché doveva bisognava ricavare questa componente di fondo indipendentemente dal fit dello spettro energetico in modo tale da vincolarla e fino a poco tempo fa pensavamo che non avremmo avuto successo invece la fine è andata meglio di quanto speravamo sì ma immagino che vi stavate un po' annoiando quindi avete detto vabbè questo è un rebus che non sappiamo se possiamo risolvere però divertiamoci un po' il sabato sera facendo questa analisi impossibile e vi è andata bene comunque in effetti non abbiamo descritto il com'è fatto questo rivelatore immenso forse qualcuno come dicevi se lo ricorderà da qualche puntata precedente però qualche diciamo due paroline le potremmo dire visto che è un esperimento enorme come già ci hai accennato è anche bellissimo da vedere come chi avrà visto passare magari sui social la copertina di nature avrà sicuramente avuto modo di apprezzare quindi com'è fatto Borexino Borexino è un rivelatore basato sullo scintillatore liquido quindi una sostanza in questo caso un composto organico quindi un derivato petrolchimico che è particolarmente puro e trasparente e che quando viene attraversato da una particella oppure c'è un decadimento radioattivo al suo interno il rilascio di energia viene viene emesso sotto forma di un lampo di luce quindi in una situazione di perfetto buio questo flebile lampo di luce che corrisponde al rilascio di energia di una particella elementare che lo attraversa viene visto da dei sensori di luce che sono montati tutti attorno al bersaglio il bersaglio è sferico quindi immaginate una sfera di acciaio di 13 metri e mezzo di diametro in cui è contenuto il materiale bersaglio e poi sulla sfera sono montati questi fotomoltiplicatori che sono una tecnologia consolidata per vedere da una luce molto flebile in cui il fotone per effetto fotoelettrico viene trasformato in un elettrone e poi c'è una catena elettronica per la lettura viene moltiplicato fino a ottenere un segnale di qualche millivolt e viene letto con una catena elettronica di lettura sì questi fotomoltiplicatori è un'immagine che ho ascoltato di recente mi è piaciuta e potete immaginarli come delle lampadine gigantesche ma al contrario esatto che invece di emettere luce la ricevono e la moltiplicano sì poi in particolare quelli di Borecino hanno anche la stessa forma di una lampadina un po' più grande perché sono otto pollici di diametro però sì è vetro evacuato perché all'interno ci deve essere il vuoto altrimenti l'elettrone non incontrerebbe ostacolo nel processo di moltiplicazione e quindi adò veramente la forma di una lampadina ed è molto bello da vedere l'immagine tra l'altro della copertina di Nature è precedente al montaggio dei fotomoltiplicatori fa vedere i buchi della sfera ci sono altre immagini molto belle che si trovano sul nostro sito sui siti di tutti gli istituti della collaborazione internazionale che forma Borexino perché è fatta da americani europei russi insomma ci sono istituti un po' in tutto il mondo che partecipano a Borexino ciascuno con il proprio sito su tutti su delle foto sono delle foto in cui si vedono invece proprio i fotomoltiplicatori con diverse geometrie e sono estremamente affascinanti perché sono questi elementi che si ripetono sono 2200 ha spesso interessato fotografi registi o gente che è rimasta affascinata da queste immagini l'immensità un'ultima domanda ti voglio fare allora per divertirvi avete fatto questa grande scoperta ormai l'avete fatta qual è il prossimo obiettivo se ne avete uno dunque sicuramente questa è una quando si arriva a scoprire come in questo caso una nuova emissione di neutrini la prima cosa che uno vuole fare è misurarli cioè vedere effettivamente quantificare quanto meglio possibile quindi con un errore piccolo quanto meglio i miei dati mi consentono quanto è il flusso di questi neutrini cioè quanti neutrini al secondo nel mio secondo in questo caso al giorno nel mio materiale bersaglio posso vedere quindi faremo molto probabilmente un'altra pubblicazione prima della fine del rivelatore che è prevista per l'anno prossimo che speriamo ci dia una misura di precisione tra virgolette di precisione rispetto a quella che abbiamo fatto attualmente questa è la scoperta poi si fa la misura di flusso bene allora che dire buon divertimento e poi quando ci sarà questa misura magari ci risentiremo molto volentieri grazie Giuliana grazie a tutti ciao a presto ciao ben tornati in studio grazie Giuliana per l'intervento e adesso è il momento un po' più così un po' più faceto non che tutto il resto poi sia sempre così serio perché poi specialmente quando conduco io devo dire che mi lascio un po' andare però ora io ho chiesto ad Anna se aveva una barza però non è ancora pronta però non ce l'ho no vabbè allora il prossimo episodio che farai Anna tra l'altro secondo me noi siamo ho visto ho sbirciato il calendario del prossimo mese noi siamo di nuovo in condizione insieme prima di Natale mi sembra di sì ti tocca ok vedrò di prepararmi brava per fare gli auguri di Natale ai nostri ascoltatori perché siamo veramente il primo episodio prima di Natale l'ultimo episodio prima di Natale farai una bella barza e il livello di complessità sarà quello della barza con anche un risvolto natalizio ti senti oh mi sono appena ricordata che sono impegnata quel weekend Giuliano mi scappa vabbè vediamo vediamo ok mi impegnerò mi impegnerò vediamo cosa si riesce a fare va bene intanto per oggi non abbiamo voluto raccontarvi un'altra barza perché dopo un po' bisogna fare pausa e poi ci prepariamo per quella che che porterà Anna quindi tanto per creare un po' di aspettativa stai creando esatto un po' troppo però vabbè ho trovato uno studio molto simpatico che si chiama The Lego Poop Study cioè praticamente esatto mi ha tolto un dubbio che sicuramente anche voi avrete avuto almeno una volta nella vita no quando si ingoia una testa di un omino della Lego questo quanto ci vuole per farlo uscire questa era una domanda e soprattutto esce sempre ed esce intatto allora questo è lo studio che hanno fatto davvero all'università di Melbourne è pubblicato sul Journal of Pediatrics and Child Health a novembre quindi quest'anno adesso recentemente ha coinvolto però sei adulti perché probabilmente non potevano farlo con bambini peraltro la cosa che mi ha fatto riderissimo è che gli adulti sono tutti gli autori dello studio cioè praticamente l'hanno fatto su se stessi io avevo una domanda la domanda era dove hanno trovato i fondi perché potrei usare un paio di suggerimenti adesso però forse è più chiaro vai sì credo che diciamo come se è stata una cosa poi hanno arricchito diciamo il loro lavoro di cose molto simpatiche allora in pratica vabbè hanno cercato di traccare il percorso e di cercarlo e praticamente hanno misurato la stool hardness and transit come uno dei variabili quindi la rigidità e il transito di questo questa testa di lego la variabile dipendente dello studio era il found and retrieve time che tra l'altro l'acronimo è fart il fart score geniale ok geniale infatti infatti mi è piaciuto tantissimo allora praticamente quello che hanno trovato è che la testa di lego passa nel loro sistema digerente senza nessuna complicazione in uno o tre giorni quindi da uno a tre giorni e questo gli ha permesso di rassicurare i genitori diciamo molto ansiosi che quando i propri figli si ingoiano le testa degli uomini di lego poi vanno a paranoia e chiamano i pediatri quindi mi sono immaginato questi pediatri che erano completamente esasperati dal problema dei genitori che continuava a dirgli che oh mio dio mio figlio stanno per morire perché si è inghiottito una testa di uomini di lego e ha detto signora no guardi qua c'è un paper abbiamo fatto noi da uno a tre giorni vedrà che esce poi magari essendo un bambino potrebbe mettere un tempo leggermente diverso ma hanno dimostrato carta alla mano che effettivamente da uno a tre giorni ti liberi delle testa di uomini di lego bisognerebbe vedere con i corpi di uomini di lego adesso è il prossimo studio secondo me perché la testa di uomini come sappiamo è tendenzialmente diciamo sferica sì è tonda è una tondeggiante quindi non è però invece il corpo ha tutte quelle gambette quelle vabbè comunque gli autori hanno anche diciamo palesato a proposito di quello che si diceva prima sul sottolineare i potenziali punti deboli e gli errori un punto debole del loro metodo che praticamente i partecipanti non erano blind no perché nel senso loro stessi autori erano quelli che frugavano nelle proprie feci quindi diciamo che non hanno voluto non hanno voluto che altri che ne so il piecidi di turno o il tesista di turno frugasse nelle loro feci per no gli sembrava poco carino è apprezzabile esatto quindi hanno detto piuttosto facciamo abbiamo questo rischio di bias di potenziale vizio metodologico dello studio però non facciamo frugare nella cacca nessuno questo è stato beh cioè nel senso sì hanno ragione comunque non essendo double blind comunque può esserci un vizio metodologico allo stesso tempo diciamo che o c'è o non c'è esatto la testa quindi penso che sia giustificabile ecco comunque mi sembra una di quelle ricerche che valgono gli Nobel sì è una ricerca secondo me da Nobel infatti mi aspetto che si candidi sia candidata presto sì perché dal titolo ti fermi e dici vabbè però in realtà cioè ha un ottimo risvolto pratico poter assicurare i genitori nel senso non è esatto è una ricerca un po' borderline che però ha la sua utilità quindi noi tra l'altro colgo l'occasione per salutare spiego l'ego che l'abbiamo già detto in episodio però ha fatto per tutti i membri della redazione di scientificast degli omini di l'ego con le nostre sembianze prendendo insomma dalle nostre foto e da anche gli argomenti che trattiamo di solito quindi questo per spiego l'ego potrebbe essere un un importante dato insomma tra l'altro lui credo che abbia figli quindi maneggiando tanto l'ego no potrebbe essere che prima o poi anzi facci sapere se uno dei tuoi figli si è mai ingogliato con una testolina o qualche pezzo di l'ego e poi l'ha espulso e in quanto tempo comunque vi invito a seguirlo e spiego l'ego perché fa delle cose spettacolari su instagram su facebook seguitelo è bravissimo bene Anna direi che possiamo tornare su un piano un po' più un po' più un po' più serio adesso ma sì e no perché adesso l'argomento in cui parlerò è molto serio però è anche un po' particolare non so se tu hai mai sentito parlare dell'illusione della mano finta forse qualche festival della scienza in passato se ne è parlato sì sì è un fenomeno molto particolare praticamente quello che succede allora c'è una c'è una branca delle neuroscienze della psicologia che cerca di capire come fa il nostro cervello a decidere fondamentalmente che un arto è suo cioè come faccio io a capire perché la mia mano è mia e la tua no che ha a che fare un po' con la proprio eccezione sì esattamente esattamente sì sì in sensi proprio ecettivi la proprio eccezione riguarda anche il fatto che tutti i nostri muscoli e articolazioni oltre che la pelle ci mandano delle informazioni ci sono dei recettori all'interno della pelle dei muscoli e delle articolazioni che informano il cervello su sullo stato come in che posizione sono le articolazioni i muscoli se c'è qualche stimolazione meccanica alla pelle ad esempio se tengo in mano una matita però in ogni caso come faccio a decidere che la mia mano è mia e se potrebbe sembrare un po' scontato in realtà beh certo la mia mano mi manda informazioni al cervello e quindi la mano è mia ma in realtà non è così e ci sono delle situazioni in cui si vede in modo drastico il fatto che non è così scontato ad esempio come nel caso dell'illusione dell'arto finto dell'arto scusami quando l'arto fantasma quando un arto viene amputato spesso il paziente riporta per tanti anni anche dopo l'amputazione di sentire il suo arto come se fosse ancora lì e ne può descrivere la posizione ne può descrivere i movimenti e la cosa però problematica di solito è che fa male molto spesso l'arto che non c'è fa male e non fa male a livello del moncherino ma fa male proprio ad esempio se viene tolto tutto un braccio fa male la mano nella posizione dove sarebbe la mano in teoria e quindi quando l'arto non c'è comunque abbiamo questo senso di possesso di un arto che non c'è e succede purtroppo ogni tanto anche il contrario in conseguenza ad alcuni danni ad alcuni tipi di danni cerebrali può capitare che si sviluppi quella che viene chiamata somatoparafrenia che vuol dire che un arto perfettamente sano e completamente normale non viene più considerato tuo nostro mio fondamentalmente quindi ci sono casi di pazienti che riportano di avere un arto di troppo e pretendono che venga tolto perché non è loro cercano di non so ad esempio buttare la gamba fuori dal letto cascando loro dal letto ovviamente perché la gamba è loro cercano c'è stato chi ha cercato di tagliare un arto o comunque di fare del male a questo arto che non considerano loro non è loro è qualcosa di troppo ma non hanno neanche la sensibilità o cioè si perde i recettori ci sono ma ci sono stati alcuni studi che hanno mostrato che nei casi più gravi il cervello stesso smette di rispondere a stimoli dolorosi perché l'arto non è loro non viene considerato loro non risponde più questi ovviamente sono tutti casi limiti ma cosa succede nei casi diciamo di persone che non sono pazienti allora studiando cercando di capire come succede appunto nella vita dei tutti giorni e come funziona gli scienziati si sono imbattuti in questo fenomeno particolare che è stato nominato l'illusione della mano di gomma o della mano finta e cosa succede allora l'esperimento si svolge così il ricercatore e il partecipante sono seduti a un tavolo uno di fronte all'altro e il partecipante appoggia entrambe le mani sul tavolo di fronte a lui o lei una delle due mani diciamo la mano sinistra viene messa al di là di uno schermo che impedisce magari di cartone o di qualche tipo uno schermo opaco comunque che impedisce al partecipante di vedere la sua mano sinistra la sua propria mano non riesce a vedere esattamente quindi vede la destra ma non vede la sinistra sono tutte e due però sul tavolo appoggiate e di fronte al partecipante e in posizione plausibile con la mano sinistra cioè vuol dire con le dita rivolte verso lo sperimentatore viene appoggiata una mano di gomma quindi una semplicemente un oggetto fatto di gomma a forma di mano con le dita messo in posizione plausibile quindi con le dita rivolte verso lo sperimentatore viene messa di fronte al partecipante e il punto chiave dell'esperimento è che a questo punto lo sperimentatore prende due pennelli e comincia a passare il pennello sulle dita della mano finta e della mano sinistra che il partecipante non vede e lo fa in modo sincrono cioè lo passa il pennello allo stesso momento e sulle punti corrispondenti della mano finta e della mano del partecipante quindi se lo passa sull'indice della mano del partecipante lo passa anche sull'indice della mano finta allo stesso momento e al partecipante viene chiesto di guardare la mano finta mentre viene stimolata in questo modo sincrono quindi tutto quello che succede alla sua mano sinistra vera il partecipante non lo vede vede quello che succede alla mano finta che però è la stessa cosa che è la stessa cosa che succede alla sua mano esattamente quindi la percepisce sulla mano ma la vede sulla mano finta dopo qualche minuto di questo tipo di stimolazione il partecipante sente come sua la mano finta come se fosse la sua mano sinistra e questo viene mostrato da alcune reazioni come ad esempio se dopo qualche minuto di stimolazione sincrona si chiede al partecipante di usare la sua mano destra per indicare dov'è la sua mano sinistra il partecipante in prima battuta indica la mano finta si deve poi correggere e per chi è leggermente meno meno simpatico se si fa finta di attaccare con un ago la mano finta quindi non si arriva nemmeno a toccarla ma si fa il gesto di colpirla pungerla con un ago il partecipante reagisce come se si stesse quasi pungendo la sua vera mano e ritrae la mano sinistra molto in fretta spaventandosi e uno dice vabbè ok mi stai arrivando addosso con un ago ci sta sì sarebbe una buona obiezione se non fosse che se la stimolazione della mano finta della mano sinistra non è sincrona questa reazione non succede non si ha assurda sta roba qua è affascinante e non solo hanno ripetuto l'esperimento dentro la risonanza magnetica che ci permette di vedere dove il cervello è attivo e hanno visto che quando la stimolazione è sincrona e solo quando la stimolazione è sincrona nel cervello in risposta a questo tentativo di puntura con un ago risponde diciamo che si attivano nel cervello le aree che di solito vengono attivate in risposta all'attesa del dolore l'anticipazione di un dolore quindi il cervello è convinto che quella mano sia sua e risponde a quella mano o a cose che succedono a quella mano come se fosse sua poi certo nel momento in cui la stimolazione è di nuovo asincrona nel momento in cui vedi di nuovo la tua mano questa illusione scompare è un'illusione semplicemente però io la trovo veramente affascinante quindi hanno studiato il meccanismo alla base perché poi alla fine è come un po' se il tuo cervello proiettasse un'immagine diversa da quella reale del tuo arto e questo esperimento qua che tra l'altro credo che i nostri ascoltatori possano fare anche a casa se hanno una mano finta non deve essere per forza del colore giusto tra l'altro ah ok quindi potrebbe essere anche la mano deve essere di gomma può essere quella di un manichino secondo te secondo me può essere quella di un manichino non so non mi ricordo esattamente dovrei ricontrollare diciamo quanto può essere diversa la mano mi ricordo che il colore non era essenziale deve sembrare una mano però cioè deve avere le dita comunque non può essere totalmente diversa non mi ricordo quanto può essere diversa devo ricontrollare comunque amici provate a casa e poi senza senza pungervi troppo senza farvi male però provate a casa questo esperimento se ne avete la possibilità e poi fateci sapere se avete bisogno di dettagli scriveteci che poi Anna ci darà qualche 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 informazione in più per vedere se farlo funzionare o meno in modo migliore o come come sta andando comunque questo esperimento qui serve poi si ricollega ai problemi di cui parlavi dell'arto fantasma del non riconoscere sì grazie a questo a questi questo esperimento questi risultati è stata sviluppata una terapia chiamata mirror therapy quindi la terapia dello specchio e con la quale si cerca fondamentalmente di illudere il cervello di riuscire a controllare effettivamente l'arto amputato e e in questo modo si riesce a diminuire in modo significativo il dolore delle persone che riportano appunto la sindrome dell'arto fantasma come si fa si mette un uno specchio di fronte all'arto intatto e quindi questo vuol dire che il nostro e ovviamente il paziente deve poter vedere ciò che succede nello specchio in questo caso nell'altro bisognava nascondere la mano in questo caso è importante invece che veda ma anche perché in questo caso non ce l'ha l'arto quindi esattamente sì e viene chiesto al paziente di muovere l'arto intatto e al contempo muovere l'arto fantasma facendo gli stessi movimenti quindi l'arto non c'è però il partecipante lo può percepire perché il cervello è intatto il cervello funziona il cervello ha ancora tutti i circuiti che dovrebbero controllare il movimento quello che manca è il muscolo ma il il movimento può partire dal cervello mi sto spiegando sì 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 assolutamente ok perfetto e quindi il cervello può comportarsi come se stesse davvero controllando un arto quindi si chiede al partecipante di muovere entrambi gli arti fondamentalmente in contemporanea e in questo caso dato grazie allo specchio il paziente vede anche l'altro arto quello fantasma muoversi e questo per qualche motivo non siamo ancora sicuri del perché crea una specie di feedback che dà l'illusione al cervello di starsi veramente muovendo e questo riduce in modo significativo il dolore quindi si tratta ma si fa un trattamento specifico poi sull'arto diciamo esistente che poi viene percepito anche dall'altro o semplicemente basta vederlo basta vederlo dare l'illusione che ci sia l'arto e che si muova e questo diminuisce già il dolore sì mamma mia una roba in qualche modo si inganna il cervello in modo però consapevole cioè è una cosa davvero affascinante e può essere applicato anche nel caso in cui invece ci sia il problema di cui parlavi prima che una persona non riconosce c'è un modo per sfruttare questa tecnica non lo so però non credo no perché qua si parla parte dal presupposto che tu un arto non ce l'abbia esatto esatto quindi non sinceramente non so se c'è uno qualche allora sì come dici tu la mirror therapy non si può usare però non so se c'è una qualche corrispondente al contrario non sono sicura c'è anche da dire che è più difficile cercare di capire come trattare i pazienti con somatoparafrenia perché in quel caso beh è molto estremamente più raro e soprattutto è la conseguenza di un di un danno cerebrale di qualche tipo e spesso diventa la conseguenza di un ictus ora gli ictus vabbè a parte gli ovvi problemi hanno anche c'è anche un problema dalla parte del ricercatore non sono mai tutti uguali e riguardano aree cerebrali spesso molto ampie quindi non è facile capire qual è l'area esatta che causa alcuni alcuni problemi come appunto la somatoparafrenia e in più appunto è molto meno controllato è molto più difficile capire come gestire queste situazioni mentre nel caso dell'arto fantasma il cervello è sano certo e quello che conta in effetti è quello diciamo che sfrutta proprio il principio che il cervello è sano ma è solamente solamente tra virgolette un arto che non c'è più perché è stato tagliato ma diciamo il centro di controllo è intatto mentre nel caso opposto è il centro di controllo che non funziona esatto e quindi lì se non agisci a livello anche diciamo fisico magari c'è appunto come un ictus se tu hai una zona danneggiata in modo irreparabile non ci puoi fare niente ecco esatto e comunque si è molto più difficile gestire tanto è vero che stanno provando a usare la mirror therapy anche in generale nel caso di ictus perché comunque danno problemi motori più spesso che no e i risultati sono ancora un poco chiari ci sono dei risultati promettenti però insomma non ci si può ancora sbilanciare come nel caso dell'arto fantasma e io credo che il motivo sia esattamente questo cioè comunque nel caso dell'arto fantasma il cervello è sano quindi si può sfruttare si possono sfruttare le sue stesse caratteristiche contro di lui diciamo o a suo favore in realtà direi perché diminuisce il dolore e mentre nel caso dell'ictus no e in più appunto serve un campione estremamente più ampio per capire cosa succede o i risultati nel caso dell'ictus perché non sono mai tutti uguali perché comunque danneggiano grandi parti del cervello spesso e in modo diverso si poi credo che sia anche poco chiaro e poco conosciuto il meccanismo in cui magari in seguito alle terapie che ci sono di riabilitazione si riorganizzano un po' anche i percorsi nervosi no? perché c'è una sorta di plasticità che però è ancora è studiata ma non è ancora ovviamente conosciuta completamente ci sono ancora dei meccanismi che sfruttano un po' oscuri un po' su come funziona abbiamo ancora tantissimo da imparare sì sì è terribilmente affascinante e la strada è ancora lunga però insomma pian pianino ottimo pian pianino e pian pianino mi sa che siamo giunti anche alla fine di questo episodio cara Anna caro Giuliano bene è stato molto divertente il secondo episodio come ti sei sentita in questo secondo episodio? bene è stato molto divertente guarda suonano anche le campane wow mi hai messo tantissima ansia all'inizio facendomelo lanciare ma è andata bene sono contenta sono soddisfatta molto bene e adesso dovremo dare anche i contatti direi quindi ci trovate su facebook su twitter su non lo so instagram giustamente ci trovate anche alla mail info chiocciolascientificas.it ma ovviamente se volete venire venire a trovarci a casa nostra scientificas.it il nostro sito è un po' come se fosse casa nostra comunque aggiungeteci sui social sentiamoci a noi fa piacere interagire con i nostri ascoltatori non dimenticatevi del gruppo telegram tu sei iscritta Anna? ah già allora sì ma devo fare un mea colpa sono iscritta ma non seguo molto perché siamo veramente tanti su quel gruppo e niente ogni volta che apro trovo 500 messaggi non riesco a starci dietro però il gruppo è molto attivo quasi 900 iscritti mi sa ad oggi una roba del genere infatti quindi iscrivetevi lanciatevi che se non riesco a starci dietro io non vuol dire che non possiate voi anzi benvenga perché appunto è molto attivo ci fa molto piacere esatto poi di solito quando ci sono delle richieste specifiche per qualcuno di noi se voi mettete una chiocciolina e ci citate noi la vediamo più facilmente e quindi vi rispondiamo io cerco sempre di rispondere ovviamente anche io periodicamente lo apro tipo una volta ogni 2-3 giorni magari io lo apro ma vedo tipo 1500 messaggi esatto e quindi insomma è un po' difficile da seguire ma sappiamo che ci sono molte discussioni non seguite molto interessanti molto ci sono sempre nuovi membri nasceranno anche storie d'amore chi lo sa chi lo sa il tutto alla prossima puntata esatto nella prossima puntata parleremo delle storie d'amore che sono nate sul nostro gruppo telegram ottimo ok va bene grazie a tutti e non siamo noi a condurre no esatto fantastico esatto non siamo noi quindi ci toccherà qualcun altro ci sentiamo presto prima di Natale per gli auguri grazie Anna è stato bello grazie a te Giuliano grazie a tutti voi per averci ascoltato ciao a tutti ciao a tutti ciao